Pace e bene a tutti. Mentre facevo il montaggio del programma sulla giornata della fedeltà, scorrevano davanti ai miei occhi le fotografie dei nostri gruppi e mi sono venute in mente diverse immagini della scrittura. Da Mosè, ad esempio, che dice al popolo, io oggi non parlo ai vostri figli che non hanno conosciuto le lezioni del Signore vostro Dio, ma parlo a voi. Riconoscete la sua grandezza e la sua mano potente. Da Mosè quindi anche ad altri personaggi che hanno sempre parlato della grandezza dell'opera di Dio, fino a Maria che celebra il Signore dicendo grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ecco, proprio le parole di Maria ci spingono a fermarci oggi su un fotogramma particolare della vita di Paolo. L'Apostolo ha compreso che il Signore lo sta conducendo a Roma e allora scrive a quella comunità e proprio nei primi versi della sua lettera annuncia che è contento di incontrarli per celebrare con loro la gloria di Dio. Anzitutto, rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo, riguardo a tutti voi, perché la fama della vostra fede si espande in tutto il mondo. Quel Dio al quale rendo culto nel mio spirito, annunziando il Vangelo del Figlio Suo, mi è testimone che io mi ricordo sempre di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio mi si apra una strada per venire fino a voi. Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati, o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi, mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non vorrei che facessimo confusione. Non abbiamo ricordato la giornata della fedeltà per dire come siamo stati bravi, ma per narrare una storia, quella dell'uomo, quella di ognuno di noi che ha incontrato Gesù come buon samaritano. Uno degli autori che maggiormente hanno sottolineato l'immagine di Gesù come buon samaritano è stato origene, discepolo di San Climente e poi suo successore nella scuola di Alessandria. La sua è un'esegesi allegorica, per cui assegna ai personaggi e ai luoghi della Bibbia delle immagini di riferimento per aiutare a vivere il cammino di fede. Così il percorso da Gerusalemme a Gerico è il percorso dell'umanità che esce dal paradiso terrestre, Gerusalemme, e vive il suo cammino verso l'eternità, Gerico. Ma è un'umanità provata dal peccato, per cui è facile vittima del nemico, il diavolo, che, proprio come quell'uomo, l'aggredisce e la spoglia della sua dignità. Nel sacerdote e nelle vita, origene vede le figure dell'Antico Testamento, che possono solo guardare l'uomo in preda al male, ma non riescono a soccorrerlo. Il buon samaritano è Gesù, che libera l'uomo dal peccato e lo consegna alla Chiesa, l'oste, che lo guarisce e lo assiste attraverso i sacramenti. La festa della fedeltà è dire grazie a Dio per il dono della salvezza. Per questo abbiamo ricordato il battesimo. Siamo stati liberati da Cristo, buon samaritano. E insieme all'immagine del samaritano guardiamo quella dell'oste, che viene incaricato di curare quel samaritano. Secondo origene, rappresenta la Chiesa, che ha il dovere di proseguire l'opera di Cristo attraverso i sacramenti e soprattutto attraverso la carità. E qui mi sono posto una domanda, ma come possono i nostri gruppi di preghiera continuare il loro cammino dopo questo impegno così grande? E ho trovato la risposta proprio nella parabola del buon samaritano, proseguire l'opera di Gesù buon samaritano. Per capire come fare, ecco vi propongo tre immagini di Gesù che propone il Nuovo Testamento. Le prime pagine del Vangelo di Giovanni ci presentano Gesù come l'agnello di Dio. Scrive l'Evangelista. Il giorno dopo, Giovanni Battista, vedendo Gesù venire verso di lui, disse ecco l'agnello di Dio, ecco colui che togli il peccato del mondo, ecco colui del quale io dissi dopo di me, viene un uomo che mi è passato avanti, perché era primo a di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele. Quasi alla conclusione del suo Vangelo, Giovanni riprende l'immagine dell'agnello quando racconta la morte di Gesù, precisando che viene ucciso il giorno della parasceve, quando si uccidevano gli agnelli per la Pasqua. Il simbolismo è chiaro, Gesù muore in croce come agnello immolato. Paolo, rivolgendosi ai primi cristiani, dice abbiate gli stessi sentimenti di Gesù che si è fatto in tutto simile a noi, eccetto che per il peccato. E padre Pio invita le figlie spirituali ad offrirsi vittime per i peccatori. Le nostre ferite possono curare le ferite degli altri. La misericordia diventa l'olio della compassione. Abbracciare la croce ti fa diventare un Cireneo. Guardando ancora nelle visioni notturne, scrive il profeta Daniele, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile ad un figlio di uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Il profeta Daniele presenta l'intervento di Dio di fronte al caos della storia causato dalla cattiveria degli uomini. All'orizzonte appare uno simile a un figlio di uomo, che non viene dal caos, scende dalle nubi, viene a governare la terra ed è portatore di una speranza che non ha fine. Gesù attribuisce a se stesso questo titolo, preannunciando quella sua risurrezione alla quale veniamo legati con il battesimo. Fa notare San Paolo che come tutti muoiono in Adamo, tutti hanno in Cristo la vita eterna. L'uomo, curato da buon samaritano, vede aprirsi davanti a sé una storia inedita e inaspettata. La salvezza per lui significa avere una nuova vita. Veramente il figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è fatto uomo. Per questo la lettera agli ebrei dice che Gesù possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere al loro favore. La missione di Gesù non si ferma con la sua risurrezione. Lui continua a intercedere per noi, è il Mediatore presso il Padre per la nostra salvezza. Dopo la nostra morte, attraverso di lui vivremo eternamente la comunione con Dio. Gesù narra la parabola del buon samaritano perché poco prima un dottore della legge gli aveva chiesto chi è il mio prossimo. Quasi quasi voleva un nome, voleva un titolo, voleva forse sfidarlo. Ma nella risposta di Gesù ci accoggiamo di una cosa. Il prossimo non ha nome, o meglio, ha tutti i nomi di coloro che incontriamo, dagli amici alle persone più inaspettate. Il tuo prossimo non ha bisogno di un nome o di garanzie, è solo uno che ti interpella. Se lo incontri non puoi dire io non c'entro e soprattutto non puoi dire non so che cosa fare. Padre Pio è stato per tanti il buon samaritano e le opere di carità parlano per lui e lui poteva anche definirsi sono quello che ha fatto questo, ha fatto quell'altro, ma l'unica definizione che ha dato di se stesso è stata un'altra. Sono soltanto un sacerdote che prega, ma non per sminuire la carità, ma perché la sua forza è stata pregare e insegnare a pregare, coinvolgere tutti nella preghiera, riuscire a far pregare anche chi non l'aveva mai fatto e non lo faceva da tempo. Tutto quello che è venuto dopo è stato frutto di quella preghiera. Possiamo essere noi samaritani della preghiera, ma di una preghiera che non sia fuga o dire prego perché non so che fare. Guardate che la grande vittoria del demonio è quella di isolare i cristiani dal mondo, di spingerli a giudicarlo malato, irrecuperabile, per i suoi vizi, allora ci rifugiamo nella preghiera, non possiamo fare altro. Essere samaritani della preghiera non vuol dire fare così, non vuol dire solo pregare per gli altri, ma entrare nella loro storia, dare speranza, dare la serenità, quella gioia che nasce dalla preghiera. Di solito si usa dire che le ricette dei dolci non si raccontano, si dice vieni, assaggiane e mangiane un poco. Io penso che noi possiamo diventare samaritani della preghiera proprio in questo modo. poniamoci un impegno ambizioso per questa settimana. Ognuno di noi cerchi almeno una volta l'occasione per pregare con qualcuno, soprattutto se è ferito, soprattutto se è spogliato di tutto, perfino della sua dignità. Preghiamo con lui per versare nelle sue ferite l'olio della speranza e della carità. E tra una settimana continueremo a raccontare la storia del buon samaritano. Pace e bene a tutti.